È stato un incontro molto positivo perché chiaramente noi come CISL abbiamo detto che qualsiasi cosa viene costruita in modo tale che si possano dare certezze contro l'evasione contributiva per la tutela dei lavoratori, ovviamente noi ci siamo. Ma l'elemento vero è stato il fatto che durante la presentazione di questa banca dati si è dato molta importanza ad elementi che sono stati battaglie storiche da parte della CISL, come il contrasto alle forme di elusione che si stanno sempre più manifestando in modo trasversale in tutti i settori. Prima in passato c'era solo l'edilizia che sostanzialmente aveva un sistema molto parcellizzato, ma oggi questa cosa riguarda appalti di beni e servizi, riguarda il commercio, riguarda i trasporti e quindi questa possibilità che ci viene data è un elemento in più. La cosa che a noi è piaciuta in modo particolare è il fatto che ci sia una volontà vera da parte dell'Inps di mettere a contrasto un'elusione che è diventata preponderante nell'ambito del nostro Paese. Noi però abbiamo detto che c'è bisogno di scrivere una parolina a fianco che si chiama congruità, ovvero il costo del personale, della mano d'opera, attraverso il riconoscimento di tabelle chiare che devono essere presentate da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Se ci sarà questo avremo fatto veramente centro.